A Marina di Gioio Saionica, serata nel ricordo di un grande uomo di cultura e politico del nord, parliamo di Umberto Zenotti Bianco, che ha amato veramente il sud della Calabria in particolare. Ha fatto moltissimo per aiutarla a risollevarsi dai terremoti, quello di Reggio e Messina, e dalle devastanti alluvioni, parliamo di Africo, della prima metà del Novecento. Si è concretamente speso per far uscire la Calabria dal sottosviluppo, dalla miseria e dall'abbandono, determinante il suo intervento in favore dell'istruzione con la costruzione di asili e scuole. Un bene merito anche nel recupero, la tutela e la valorizzazione degli immensi beni artistici ed archeologici. L'omaggio del Comune di Marina di Gioio Saionica, che anni fa gli ha intitolato una scuola, si è nuovamente avuto venerdì sera con la proiezione dell'interessante docufilm Bellezze e rovine il Mezzogiorno l'Italia. Sceneggiatura e regia di Giovanni Scarfò, montaggio di Matteo e Giovanni Scarfò, con Antonio Tallura, Lavina Mocchi e Paolo Turrà. Musiche di Francesco Prestia, interventi del sindaco Domenico Vestito e di Giovanni Scarfò, che hanno messo soprattutto in evidenza la straordinaria attenzione di Umberto Zenotti Bianco e l'illuminata capacità di capire e trovare risposte ai problemi dei meridionali. Un luggimerante che aveva fiducia nella rinascita e dava speranza a quanti con l'ottimismo della volontà progettavano e tra mille difficoltà edificavano il presente e ipotizzavano naturalmente un futuro migliore. Ricordarlo è doveroso e per questo sono da elogiare sia l'autore che l'amministrazione comunale. La pregazione di Umberto Zenotti Bianco questa sera a Marina di Gioio Saionica è uno dei momenti importanti per riflettere su quel che è stato l'opera di Zenotti Bianco negli anni in cui ha vissuto, che riguardano soprattutto i suoi interventi dopo il terremoto del 1908, che noi utilizziamo per commemorare la figura di Zenotti Bianco ma soprattutto per riflettere sulle cose che ha fatto e confrontandole con quelle che oggi noi troviamo qui in Calabria, non solo in Calabria ma in tutta Italia. E c'è quello che riguarda il dopo terremoto, quello che riguarda il dissesto idrogeologico, le frane, le scuole. Non dimentichiamo che Zenotti era riuscito in tutti quegli anni in cui ha lavorato, dal 1908 fino agli anni 50, di creare, di fondare tantissime cooperative, tantissime scuole, asili, decine di asili, tutta la Calabria. Cioè si è speso in modo totale insieme alla sua associazione L'Animi, associazione nazionale per gli interessi del Mettogiorno, ovviamente coaudiato da tantissimi suoi collaboratori, riuscendo a far sì che la Calabria trovasse il modo di risollevarsi di non essere soltanto accompagnata nel dopo terremoto, ma il dopo terremoto serviva soprattutto per riuscire a dare alla Calabria un impulso e Zenotti diceva assolutamente che l'impulso doveva venire dalle scuole. Ecco perché lui ci teniva moltissimo a far sì che la scuola fosse funzionante, che tutti i ragazzini, i bambini calabresi andassero da scuola, perché da lì lui capiva che senza la scuola, senza la cultura, la possibilità che la Calabria si risollevasse da quel disastro che aveva avuto era molto difficile. Allora lì ha trovato la soluzione per tantissime cose che voleva realizzare. Naturalmente non si è occupato soltanto di Calabria, ma anche Sicilia, Puglia, gli Armeni, cioè è stato un uomo che è riuscito nei suoi 50 anni di attività a dare a noi la dimostrazione di quello che si può fare per veramente dare un contributo a quelli che oggi per noi sono i migranti. Noi abbiamo molte difficoltà a pensare cosa può diventare adesso l'emigrazione, i rifugiati, i profughi eccetera, cosa che lui aveva già fatto con gli Armeni, costruendo dei villaggi, un villaggio a Bari. Quindi già si era occupato anche di queste cose, ha partecipato anche la rivoluzione, cioè è andato anche in Russia dopo la rivoluzione d'ottobre per dare una mano ai russi e alla stia che è seguita dopo la rivoluzione d'ottobre. Quindi diciamo un personaggio veramente unico. Con grande gioia ospitiamo la proiezione del docufilm su Zanotti Bianco, il Bellezza e Rovine, il Mezzogiorno e l'Italia di Giovanni Scalfò. Ed è un obbligo per Marina di Gioio Saionica ricordare Zanotti Bianco. Lo abbiamo fatto all'inizio di quest'anno con la presentazione di un libro organizzato dai presidi del Libro della Locride di Sergio Zoppi che ripercorreva la vicenda biografica di Zanotti Bianco. Lo facciamo adesso con questo documentario di Scalfò. La Calabria ma la Locride in particolare hanno un debito enorme di riconoscenza nei confronti di questa straordinaria figura di intellettuale e di politico quale è stato Zanotti Bianco. Marina di Gioio Saionica in particolare perché grazie all'intuizione del preside Filocamo il nostro istituto tecnico per il turismo, una delle scuole più importanti della Locride e della Calabria è proprio intitolata ad Umberto Zanotti Bianco e quindi Marina di Gioio Saionica, la nostra amministrazione comunale, ritiene assolutamente indispensabile questo ricordo che però si fa attualità perché discuteremo di mezzogiorno. Tutti ricordiamo i dati svimez dell'inizio di agosto che ci dicono di un mezzogiorno d'Italia che è molto più indietro della Grecia e quindi approfitteremo di questa occasione per discutere anche di questi aspetti e perché no trarre qualche iniziativa concreta da poter realizzare nel nostro piccolo.